Quando Enrico Letta, segretario del PD, dice che è fuori da qualsiasi regola questa iniziativa di Salvini di andare a Mosca, ha ragione? Alla fine è un autogol? Ma chi se ne frega? No, veramente voglio chiedere. Ma chi se ne frega di Salvini? E non avrebbe, mi scusi, professore, mi scusi, no, le chiedo, perché se no sembra che ne parliamo perché quando l'aveva annunciato questo viaggio venerdì si erano irritati tutti moltissimo, a cominciare dal governo di Mario Draghi, ovviamente, perché avrebbe creato un fortissimo imbarazzo, non sarebbe stata un'iniziativa così. Ma non hanno di meglio da fare, ma non abbiamo di meglio da fare che irritarci per le puttanate che combina Salvini? Ma non lo so, viviamo in una tragedia incredibile, con rischi geopolitici drammatici, e parliamo di Salvini, ma abbia pietà di me, dai, forza. Parliamo piuttosto del fallimento, ancora una volta, e smettiamo di stendere pietosi veli per carità di patria, perché in questo caso l'Europa, non solo in precedenza, la sua assenza in tutto ciò che ha preparato la tragedia, che lo sapevano, che qualunque persona avesse un minimo di conoscenza di come andavano le cose da 15-20 anni a questa parte, potevi immaginare che si sarebbe sfociati in una tragedia di questo genere. C'era una guerra civile in Donbass, non so se ce lo ricordiamo, e l'Europa assente. Ora fa le sanzioni e le fa così, alla veste d'arlecchino, uno fa una cosa, uno fa un'altra, quello che diceva prima, ma vogliamo scherzare, è l'ennesimo fallimento politico dell'Europa, alto che palle!